Bene, eccoci qui, siamo con lo studente anonimo, di cui non faremo il nome, che ha appena fatto un corso dal vivo di due giorni, nel mese di aprile, e niente, adesso ci faremo raccontare com'è andata, quella che è stata l'altra esperienza, che risultato ha ottenuto, come si sente, come è andato dopo il corso soprattutto, e quindi niente, passiamo la parola allo studente anonimo e raccontaci. Allora, salve, come diceva Gianluca, ho fatto un corso di due giorni e sono partito, diciamo, già dal primo giorno, diciamo, Gianluca mi ha fatto partire subito con l'acceleratore che pregunto, perché mi ha detto di andare ad approcciare delle commesse in un centro commerciale, situazione in cui non ero abituato, cioè per me nuova, e comunque sono andato lo stesso, ho avuto ovviamente, come si può immaginare, all'inizio molta ansia, però comunque sono andato e abbiamo visto un po' quali sono state le mie difficoltà. Devo dire che sicuramente sono state situazioni in cui ho avuto disagio, che però mi hanno permesso di scaricare, quindi di liberarmi, tutte queste emozioni negative, e ho notato poi, soprattutto poi nel secondo giorno, che la mia ansia era scesa, diciamo, parecchio. E questo è andato anche nei giorni seguenti, poi al corso, perché ero più disinvolto anche nella comunicazione, nella conversazione, ma anche approcciare a volte anche più ragazze, non solo approcciare la singola ragazza come io ero abituato a fare, molto spesso, proprio perché avevo proprio l'ansia, quasi la paura di poter fermare due o tre ragazze che erano insieme, proprio perché ero, diciamo, un po' limitato da questa paura del giudizio. E devo dire che la mia ansia si è abbassata molto e anche la conversazione è migliorata. So che su alcune cose sicuramente dovrò lavorarci, ma il miglioramento c'è stato, indubbiamente. Sicuramente mi è servito, perché Gianluca è stato bravo a farmi notare, diciamo, i miei errori e le mie criticità, che forse da solo non avrei mai potuto superare. E quindi mi è stato molto utile, questi due giorni di corso sono stati molto utili per me, per poter notare tutti questi miei errori. E poi è stato molto paziente, devo dire la verità, Gianluca, con tanti errori che poi mi si ripetevano in maniera quasi ossessiva, perché non riuscivo a eliminare questi miei difetti. Però poi, insomma, con la pratica, con la prova ed errore, insomma, sono riuscito, pian piano ci sto riuscendo. E quindi dei risultati rispetto a prima, ho ottenuto sicuramente più risultati ultimamente, anche se è passato poco tempo, ma credo in questo senso di essere fiducioso che otterrò comunque dei risultati positivi. Sono contento comunque di aver fatto questo corso e sicuramente di aver ottenuto maggiori risultati, ma comunque di poter fare ancora meglio, sicuro.